In altre città per esempio c'è il problema delle fermate dei pullman, dei pullman di linea che per l'intera notte si fermano davanti alle abitazioni creando smog, creando disturbo alla quiete pubblica. Che facciamo? Vietiamo alle linee degli autobus di poter arrivare e dare un servizio pubblico? Si spengono di notte gli H24 ma restano accese le polemiche sulla vicenda. A Barletta ancora occhi puntati sul futuro degli imprenditori della distribuzione automatica dopo l'ordinanza del sindaco Cosimo Cannito che impone la chiusura dei punti vendita dalla mezzanotte alle sette di mattina. Ad intervenire sulla questione anche l'Unipuglia per il sindacato il provvedimento dell'amministrazione barlettana sarebbe illegittimo e proprio per questo si preparerebbero ad un ricorso al TAR. Appena abbiamo appreso di questo provvedimento immediatamente abbiamo sollevato una questione innanzitutto di natura giuridica perché anche le sentenze di Cassazione ormai hanno acclarato da tempo che per la legge sulla concorrenza non possono assolutamente essere imposti di vieti alla libertà di impresa e ovviamente alla libertà di aprire anche 24 ore su 24. Questo provvedimento è illegittimo anche perché agisce in maniera indiscriminata su tutti gli H24 e non già su qualcuno che eventualmente possa aver commesso qualche infrazione o qualche reato che neppure c'è. Perché qui si parla di disturbi della quiete pubblica all'esterno degli esercizi quindi per strada a questo punto l'intervento deve essere di polizia cioè bisogna punire coloro che per strada creano disturbi alla quiete pubblica. Cosa c'entrano gli H24? Come vedete insomma si è calcato un po' la mano e questa cosa secondo noi insomma andava evitata.